Due giorni fa il Ministero dell'Interno tramite la Protezione Civile Nazionale ha chiesto alle varie regioni la disponibilità di posti per ospitare profughi afghani. Come Regione Marche abbiamo messo a disposizione 20 posti presso il Covid Hotel di Gabicce Mare, che è già a nostra disposizione per chi esce dall'ospedale e deve finire la quarantena. In questo caso le cose si sposano perfettamente perché questi profughi che sono in arrivo dovranno comunque stare 10 giorni in quarantena anche qualora risultassero negativi, come è questo il caso. Oggi quindi arrivano 20 persone, saranno ospitati al Covid Hotel appunto della nostra Regione, a Gabicce, valuteremo nelle prossime ore se essendo magari congiunti alcuni di essi, marito e moglie, madre e figlia, potranno essere ospitati nella stessa stanza e i posti potrebbero diventare fino a 30. Io ritengo opportuna e doverosa questa disponibilità da parte della Regione Marche, oltretutto lo facciamo anche in contiguità con un'iniziativa che è già in essere tramite i nostri Covid Hotel che già abbiamo, diciamo così, a nostra disposizione.